Sì, grazie, sono con Agnese Cocchiere perché è giusto sentirla. Io penso che debba essere meraviglioso, lo chiedo a te, esordire con un gol, con due gol nel sette rosa. Eh sì, una cosa mi sembra vero. Sì, bellissimo, veramente, non so cosa dire, veramente bello. Cioè, praticamente prima partita è doppietta, non me l'aspettavo, meno male, ero proprio carica, cioè volevo proprio godermela al massimo. Quindi sono contenta di aver dato un contributo a questa partita. Che settimana importante perché venite anche dalla conquista con Padova della Coppa Italia. Coppa Italia, sì, 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 una vittoria dietro l'altra sembrerebbe. Siamo sull'anda giusta, diciamo, e niente, emozionatissima, veramente una figata, bello. Tra l'altro hai giocato contro delle avversari che conoscevi bene perché hai fatto il Mondiale Under 20 dove avete vinto la medaglia di bronzo. Esatto, tra l'altro contro di loro ci avevamo perso quindi è stata anche una sorta di rivincita. Quindi, doppiamente, una bella cosa. Cosa ti aspetti adesso? Mi aspetto di andare in America e che abbiamo un torneo importante dove incontreremo altre squadre altrettanto importanti che incontreremo sicuramente all'Europeo. Mi aspetto di giocare bene, di dare il massimo, di rendere al meglio proprio per conquistarmi questo posto. Agnese, ma per conoscerti meglio cosa dobbiamo sapere di te? Per conoscermi meglio. Niente, sono una ragazza solare di questo tipo, giusto? Niente, sono una ragazza solare buona, che si impegna dal massimo per questo sport, per quello che gli piace e su di me ti puoi fidare, ci puoi contare. Bene, è così che ha detto Paolo Zizia, ci si può contare. Grazie, grazie ancora, la linea a voi. Grazie a tutti.